Dal gioco ai giochi. Questo il titolo scelto per la giornata nazionale dello sport 2023, promossa dal CONI in ogni angolo della penisola. Un'iniziativa a cui ha aderito appieno l'amministrazione comunale di San Giustino, con 14 società sportive che hanno intrapreso le proprie attività all'interno dello stadio comunale in via Olimpia. 12 le discipline esplorate da piccoli e grandi atleti per una vera e propria festa dello sport all'insegna del gioco e del divertimento. Dall'arrampicata all'atletica, passando per arti marziali, ballo e calcio, senza dimenticare ginnastica artistica e ritmica, e poi kart, mountain bike, pallavolo, scherma e tennis tavolo. Un evento coordinato dal comune di San Giustino con il supporto della direzione didattica del Francesca Turrini Bufalini. Difatti l'istituto, proprio nei mesi scorsi, aveva aperto le porte allo sport al CONI con incontri di iniziative svolti sia nelle classi che nel territorio e la possibilità da parte degli alunni di visitare e provare tutti gli sport presenti nel centro CONI del comune Alto Tiberino. Sono 14 società sportive coinvolte all'interno di questa giornata. Devo dire che oggi è una bellissima giornata per San Giustino perché lo sport viene messo al centro dell'attività di questa giornata nazionale che il CONI ha organizzato in tutta Italia. San Giustino ne è protagonista, ne è protagonista grazie soprattutto alla collaborazione che c'è con tutte le associazioni sportive del nostro territorio che hanno permesso di realizzare tutto questo. Ci sono varie discipline, dalle mountain bike, all'atletica, al rugby, pallavolo, arrampicata, calcio, carta, pedali, tennis tavolo, ginnastica, arti marziali, ballo, la scherma. Quindi un servizio veramente completo per poter provare tutti gli sport e per poter poi dopo magari essere protagonisti nei grandi eventi nazionali che ci saranno nel nostro territorio da parte di questi giovani. Una manifestazione sentita qui a San Giustino dove la collaborazione con l'amministrazione e con le società del centro CONI è veramente ottima. Una manifestazione voluta a San Giustino perché San Giustino merita questo ed altro per quello che sta facendo nel campo sportivo. Oggi tanti ragazzi, tanti ragazzi veramente che stanno celebrando nel modo migliore quella che è la nostra giornata, la giornata dell'orgoglio sportivo. E poi è importante che ci sia un movimento che cresce, quello a San Giustino intorno al centro CONI sta crescendo a dismisura. Abbiamo in campo altre iniziative altrettanto importanti, proseguiremo con gli educampi che sono i campus estivi con il format CONI. Credo realmente che ci sia una buona, anzi un'ottima collaborazione tra il mondo sportivo di San Giustino e il CONI.